Un intervento urgente nella gestione onde rimuovere tutte le criticità rilevate in particolare sul depuratore comunale nonché in generale sul servizio idrico integrato e la richiesta avanzata stamane al lato idrico dal responsabile provinciale per i diritti del malato Maria Grazia Cimino e il referente per la valorizzazione e la difesa dell'ambiente Salvatore Licata. Apprendiamo con soddisfazione, si legge in un comunicato stampa a firma di Cimino e Licata, che il commissario Maria Grazia Brandara ha firmato e fatto partire le tre lettere indirizzate all'autorità nazionale per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico e al lato idrico, realizzate in maniera sinergica fra cittadinanza attiva e il funzionario responsabile, l'ingegnere Ortega, per richiedere un'audit tecnica presso il depuratore dei reflui cittadino, che tanti problemi ha comportato per la comunità, mettendo a repentaglio la salute pubblica, l'ambiente e le attività economiche cittadine. Al lato idrico, per la sospensione del cannone di depurazione e per il rimborso a tutte le utenze cittadine che ne hanno diritto. La richiesta avanzata da Salvatore Licata e Maria Grazia Cimino allo stesso ato idrico è quella di pervenire alla rescissione della Convenzione e di intervenire nella gestione onde rimuovere tutte le criticità rilevate, in particolare sul depuratore comunale, nonché in generale sul servizio idrico integrato. Più volte si legge nel comunicato a firma di Licata e Cimino e per tanto tempo si è cercato un dialogo con il gestore tramite lato per rimuovere le anomalie denunciate ed evidenziate negli anni. Ma in vano si attendono adesso le azioni conseguenziali per il ritorno alla normalità, affinché si possa ristabilire la legalità anche in questo campo.